Per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. È molto più difficile lasciare un posto, una poltrona che non aggrapparsi nella tenace ricerca dello status quo. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, la crisi politica è aperta da mesi e il salto di qualità che abbiamo chiesto non l'ha chiesto Italia Viva, l'hanno chiesto altre forze politiche dicendo guardiamoci negli occhi, mettiamoci insieme e risolviamo le questioni aperte.